La Moderna Theory nasce in realtà con John Maynard Keynes negli anni 40, 30, 40, cioè un'idea di costruzione democratica dove è la funzione pubblica centrale dello Stato che ha comunque il sopravvento nel controllo del bene comune, non il sopravvento totale, possiamo dire il 51% delle azioni, chiamiamole per capirci, è comunque una quota di maggioranza. È allora che nasce quest'idea che l'interesse pubblico sta nella tutela al 51% del bene comune da parte di uno Stato forte dotato di una moneta sovrana. È un pensiero che è stato sviluppato da altri pensatori come Lerner, Knapp, John Robinson, importantissimi citare, Hyman Minsky, Wynne Godley. Perché dico questi nomi? Non per fare il colto, ma perché va capito che questa idea che portiamo avanti, che io definisco salva vite e poi spiego perché, e salva nazione non è un'idea di internet, non è una cosa, è un pensiero politico che ha una profondità storica, un pensiero politico-economico che ha una profondità storica enorme e che è scomparso dai radar dell'economia e della gestione dello Stato precisamente perché era l'unico strumento affidabile per la gestione democratica e le forze, chiamiamole delle destre economiche neoliberiste, neoclassiche e neomercantili hanno lavorato una buona parte di 50 anni per proprio far scomparire dai radar politici questa impostazione economica. Oggi con il colpo di Stato finanziario, particolarmente in Europa, è più che mai urgente riportare questa concessione della politica e della tutela del bene comune in primo piano, motivo per cui facciamo questa iniziativa. E la versione moderna di questa lunga serie di teorie economiche, di impostazioni di pensiero si chiama Modern Money Theory ed è stata sintetizzata da un gruppo di economisti americani che verranno a parlare per noi. La gallina delle uova d'oro La gallina delle uova d'oro è un'idea che è applicabilissima anche in Europa, non è che le differenze attuali fra America e Europa precludono questa possibilità. Cosa vuol dire? Vuol dire esattamente quello che ho accennato prima, cioè quando uno Stato si dota di una propria moneta sovrana e esce dai limiti ideologici imposti dalle destre neoliberiste è in grado di spendere questa moneta precisamente a deficit, cioè spendendo per i cittadini più di quello che tassi i cittadini per creare, dirigendo questa spesa, per creare il benessere comune, cioè la piena occupazione innanzitutto. Uno Stato a moneta sovrana può pagare tutti gli stipendi che vuole senza limiti di numeri, di quantità di lavoratori da assorbire. Può creare i pieni servizi sociali, pieni. E noi da quando siamo nati sappiamo un messaggio fasullo, cioè che lo Stato ha dei limiti di spesa, che non può permettersi di fare ospedali più moderni, non può permettersi di costruire più scuole, di modernare gli asili, di dare più servizi, perché ci sono sempre questi limiti. In realtà questi sono falsi ideologici, ingenerati proprio da queste destre neoliberiste. Uno Stato a moneta sovrana può creare la piena occupazione, i pieni servizi sociali, può creare la piena istruzione, può creare i pieni alloggi per i cittadini e addirittura può assorbire anche un'elevata quota di produzione di aziende e di industrie nel caso in cui l'economia non riuscisse ad assorbire questa piena produzione. Quindi creare ricchezza per le aziende e quindi creare posti di lavoro. Questa è la gallina delle uova d'oro. Naturalmente è ovvio immaginare che le elite economiche delle destre neoliberiste, ma anche neoclassiche e neomercantili, hanno visto questa possibilità molto tempo prima che potesse essere messa in atto e hanno detto se questa cosa accade, se questi stati si strutturano in questo modo, cosa che accadde in realtà per un breve periodo di tempo, nel secondo dopoguerra, se questo succede noi elite perdiamo qualsiasi pretesa di possedere la maggioranza della ricchezza. E questo per loro è un conto molto ovvio. Hanno detto semplicemente che questa cosa non dovrà mai succedere, mai. Dovrà scomparire dai radar della politica perché se lo succede noi siamo finiti come elite. E la storia davanti agli occhi di tutti ci racconta e dimostra che il loro piano, che io descrivo nel mio saggio di più grande crimine, con dettagli, documenti, eccetera, è riuscito talmente tanto che oggi non solo l'elite di pochi, migliaia di investitori, speculatori e grandi industriali sono patroni del mondo, ma sono anche patroni di governi, fanno cadere governi, impongono politiche sovrane, impongono a un popolo come la Grecia. Una roba incredibile, cioè che un potere esterno alla nazione non eletto da nessuno sia addirittura in grado di proibire una nazione di usare uno strumento di democrazia fra i più basilari che del referendum hanno un potere, hanno guadagnato un potere enorme, esattamente come io ho detto prima, attraverso questa pianificazione. La gallina dell'uovo d'oro era l'esatto contrario di questo terribile stato di cose. Il luogo è la Toscana, sarà la Toscana perché comunque è in mezzo ed è facilmente raggiungibile sia dal sud che dal nord, ancora non siamo in grado di dare le date perché dobbiamo aspettare di ricevere i contributi necessari per pagare tutte le spese, prima non vogliamo impegnarci con date, con economisti americani. Sarà tutto reso noto sul mio sito, così come è tutto reso noto sul mio sito puntualmente ogni volta che c'è uno sviluppo, paolobarnard.info per chi vuole andare a vedere. E lo scopo è adesso di creare, di formare una platea di attivisti. Questo è un seminario sulla Modern Money Theory per attivisti politici, amministratori, se vogliono venire. Non può avere un colore politico, non può avere una sponsorizzazione di un movimento, lo dico chiaro, è la formazione di una rete di attivisti, speriamo in un migliaio di partecipanti. Il secondo scopo è di lavorare in Italia per chiedere alla politica che questa impostazione economica divenga politica economica nazionale e che sarà l'unico modo, fra l'altro lo dico in maniera molto secca, sarà l'unico modo per salvare questo paese che è già al tracollo dal massacro, con il quale le politiche di Monti di oggi sono una leggera passeggiata, dal massacro che verrà quando l'Italia farà default, non riuscirà a stare dentro l'euro, o verrà confinata in alternativa a un euro debole da paesi da meno del sud Europa e quindi subirà crolli economici che oggi sono addirittura inimmaginabili. A quel punto i politici e gli ideologi delle destre finanziarie ed economiche imporranno ancora più austerità, imporranno ancora più punizione economica, se a quel punto l'Italia non avrà avuto un movimento di attivisti che riuscirà a chiedere ai cittadini di mobilitare la politica sulla modern money theory, saremo veramente fatti a pezzi, ma fatti a pezzi come non ce lo ricordiamo dagli anni trenta. No, è molto peggio, con lo scopo, come ho detto prima, di finalizzare il colpo di Stato finanziario che ha posto fino alla democrazia in Europa, in Italia in particolare, con lo scopo di finire il lavoro di spolpamento fino all'osso del bene comune italiano, con lo scopo di ridurre l'Italia a un paese del sud Europa dove gli unter mentioned lavoratori italiani saranno pagati stipendi da miseria al servizio della delocalizzazione delle industrie franco tedesche, ma soprattutto tedesche perché la Francia va giù assieme agli altri e quindi gli scopi dei media e dell'informazione sono totalmente pilotati in questa direzione, i media non hanno mai raccontato la verità né sulla medicina né sull'alimentazione né la raccontano sulla politica internazionale, immaginate voi come fanno a raccontarla sull'economia che è il fulcro della ricchezza del mondo, quindi è ridicolo, quando uno dice i media raccontano balle e manipolano non è che parla di complotti, parla dell'ovvio, poi da questo punto di vista proprio su questa vicenda che è il colpo di Stato finanziario è chiaro che un telegiornale come un giornale non ti racconterà mai quello che è successo, io ho dato le prove del colpo di Stato finanziario nel mio saggio, le ho raccontate anche in una rara apparizione televisiva che mi è stata concessa, dopodiché non mi era assolutamente concesso di reparire, ma ho dimostrato per esempio, solo per citare un esempio, che il pacchetto di austerità di cui oggi siamo stati vittime, siamo vittime e che è stato discusso e approvato in Parlamento è stato dettato alla lettera, nero su bianco, da due lobby finanziari europei che sono la European Roundtable of Industries e Business Europe, in un periodo che va da un anno, due mesi a due mesi prima del colpo di Stato finanziario in Italia, cioè ci sono i documenti, io li ho scritti, è scritto alla lettera tutto, il capitolo pensioni, il capitolo messa in costituzione del pareggio di bilancio, il capitolo calo degli stipendi pubblici e il capitolo di decentralizzazione della contrattazione sindacale, tutto questo era già stato scritto da questi due lobby, imposto alla Commissione europea che risponde alle lobby, dalla Commissione europea imposta ai governi, in particolare ai governi italiani. Qui c'è un colpo di Stato finanziario e chiaramente nessun media osa rivelare questa verità, che però è anche davanti al buon senso di tutti, perché se voi ci pensate, il governo italiano che io non apprestavo per niente, anzi detestavo, è stato però deposto, legittimamente eletto, è stato deposto da una forza esterna d'Italia che nessuno elegge, più colpo di Stato di così.